Allora, questo è il video per il giveaway della cipra illuminante di Tarina Tarantino firmata, autografata da lei. Allora, cosa succederà? Io comincerò a fare le domande. Voi, mi raccomando, ricordatevi che potete lasciare solamente un commento dove e con tutte le risposte in ordine cronologico se non dovessero essere in ordine cronologico va bene lo stesso l'importante è che siano appunto tutte e dieci corrette. La prima persona, la prima persona, anche se sarà una questione di pochi secondi la prima persona che vincerà, che indovinerà tutte le risposte vincerà, quindi mi raccomando, comincio ad fare le domande. Allora, prima domanda. Sono domande che molte di voi troveranno più o meno facili però, come ho detto, questo è un regalo al quale tengo in maniera particolare quindi voglio darlo a una delle persone che mi seguono da più tempo o con più affetto, ripeto. Allora, cominciamo. Prima domanda, mi sembra di essere l'annunciatrice Nome di mio marito Non è importanza se lo scrivete in maniera non corretta Nome di mio marito Seconda domanda La mia età al momento Quindi non è importanza se quest'anno compirò 40 anni Non è importanza al momento Quindi questa è la seconda domanda La mia età Terza domanda Vi do due opzioni Ho un fratello o una sorella Quarta domanda Da quale provincia siciliana vengo? Quarta domanda Quinta In che stato americano abito? Sessa domanda Su quale rivista mensile americana sono apparsa? Settima domanda Anche questa, anche per la settima domanda vi do l'opzione A.O.B Allora, settima domanda ovviamente dovete scrivere Sono, la risposta giusta Settima domanda Sono in aeronautica O in marina Quindi aeronautica o marina Non voglio fare Non vi lasciate prendere dalle mie espressioni facciali Quindi aeronautica o marina Così Ottava domanda Io ho fatto un incontro In una città del nord Italia Ad ottobre In quale città del nord Italia ho fatto questo incontro? Nona domanda In che città americana abitavo Prima di venire qui Dove sono adesso In quale città americana abitavo? Decima domanda Come si chiama la zia Che nomino Nel video della sorellanza Delle mutande Delle mutande viaggianti Vi ricordate? Io dico Ah, dobbiamo dare un nome a questo hotel Come il motel Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Motel È la zia E faccio un nome Allora è tutto Mi raccomando La prima La prima persona che risponde A tutte e dieci le domande La prima persona Vincerà La cipria italiana Tarantino con l'autografo In bocca al lupo a tutte Ciao